pomo e scorzo una volta c'era marito e moglie gran signori avrebbero voluto figliuolo ma non ne avevano un giorno quel signore era per via e incontra un mago signor mago mi insegni un po gli dice come posso fare ad avere un figlio il mago gli dà una mela e dice la faccia mangiare a sua moglie e in capo a nove mesi le lascerà un bel bambino il marito torna a casa con la mela e le dà a sua moglie mangia questa mela e avremo un bel bambino me l'ha detto un mago la moglie tutta contenta chiamò la fantesca e le disse che le sbucciasse la mela la fantesca gliela sbucciò e si tenne le scorze e poi se le mangiò nacque un figlio alla padrona e lo stesso giorno nacque un figlio alla fantesca quello della fantesca bianco e rosso come una buccia di mela quello della padrona bianco bianco come una polpa di mela il padrone li tenne tutti e due come i suoi figli li fece allevare insieme e andare a scuola pomo e scorso diventati grandi si volevano bene come fratelli un giorno andando a spasso sentono dire della figlia di un mago bella bella come il sole ma che nessuno l'aveva mai vista perché non usciva mai e non s'affacciava neanche alla finestra pomo e scorso allora si fecero fare un gran cavallo di bronzo con la pancia vuota e ci si misero dentro con una tromba e un violino il cavallo camminava da solo perché loro muovevano le ruote e così andarono sotto al palazzo del mago e si misero a suonare il mago si affaccia vede quel cavallo di bronzo che suona da solo e lo fa entrare in casa perché sua figlia si diverta la figlia si divertì molto ma quando rimasta sola col cavallo di bronzo ne vide uscire fuori pomo e scorso fu tutta spaventata non abbia paura dissero pomo e scorso siamo venuti per vedere quanto è bella e se lei vuole ce ne andiamo subito andiamo se invece la nostra musica le piace e vuole che restiamo un po' a suonare poi rientreremo nel nostro cavallo e lo faremo uscire senza che nessuno s'accorga che siamo dentro così restarono a suonare a divertirsi e alla fine la figlia del mago non voleva più lasciarle andare se vuole venire via con me le disse pomo sarà mia sposa la figlia del mago rispose di sì si nascosero tutti e tre nella pancia del cavallo e via appena erano usciti rincasa il mago chiama la figlia la cerca domanda il guardia portone niente allora comprese che c'era stato un tradimento si infuriò si invenenì si affacciò al balcone e lanciò contro sua figlia tre sentenze che abbia da trovare tre cavalli uno bianco uno rosso uno nero e lei che le piacciono i cavalli bianchi abbia da saltare sul bianco e questo sia il cavallo che la tradirà se no che abbia da trovare tre cagnolini uno bianco uno rosso e uno nero e lei che le piacciono i cagnolini neri abbia da prendere in blaccio il nero e questo sia il cane che la tradirà e se no che quella notte che andrà a dormire col suo sposo un biscione abbia ad entrare dalla finestra e questo sia il biscione che la tradirà mentre il mago lanciava queste tre sentenze dal balcone per la via lì sotto passavano tre vecchie fate e sentirono tutto quanto la sera le fate stanche dal lungo viaggio si fermarono a un'osteria e appena entrate una di loro disse guarda dov'è la figlia del mago se sapesse le tre sentenze che le ha mandato il padre non dormirebbe così tranquilla infatti addormentati su una panca dell'osteria c'erano pomo scorzo e la figlia del mago a dire la verità scorso non era proprio addormentato sia perché non riusciva a prendere sonno sia perché sapeva che è sempre meglio dormire con un occhio solo e sentiva tutto così sentì una fata dire il mago le ha augurato che abbia a incontrare tre cavalli uno bianco uno rosso e uno nero e lei abbia da saltare in groppa al bianco che sarà quello che la tradirà però aggiunse l'altra fata se ci fosse qualcuno accorto taglierebbe subito la testa e il cavallo e non succederebbe niente e la terza fata aggiunse e se qualcuno lo racconterà pietra di marmo diventerà poi il mago le ha augurato disse la prima fata che abbia da trovare tre cagnolini e lei vorrà prenderne uno in braccio e questo sarà quello che la dovrà tradire ma disse la seconda fata se ci fosse qualcuno accorto taglierebbe subito la testa e il cagnolino e non succederebbe niente e se qualcuno lo racconterà pietra di marmo diventerà disse la terza poi le ha augurato che la prima notte che dormirà col suo sposo dalla finestra entrerà un bicione e questo sarà il bicione che la tradirà ma se ci fosse qualcuno accorto taglierebbe la testa del bicione e non succederebbe niente disse la seconda fata e se qualcuno lo racconterà pietra di marmo diventerà scorso si trovò così con quei tre terribili segreti che non poteva dire se non voleva diventare di marmo e domani ripartirono e arrivarono a una stazione di posta dove il padre di pomo aveva fatto mandare loro incontro tre cavalli uno bianco uno rosso e uno nero la figlia del mago salto subito in sella al bianco ma scorso sguainò pronto la spada e tagliò la testa al cavallo che fai sei pazzo perdonatemi non ve lo posso dire pomo questo scorso è un giovane di cuore cattivo disse la figlia del mago non voglio continuare più il viaggio con lui ma scorso le disse d'aver tagliato la testa al cavallo in un momento in cui aveva perso la ragione e le chiese perdono e lei finì per perdonarlo arrivarono a casa dei genitori di pomo e le corrono incontro tre cagnolini uno bianco uno rosso e uno nero ne fa per prendere in braccio quello nero ma scorso trae la spada e gli taglia la testa che vada subito via da noi quest'uomo maledetto e crudele grida la sposa in quella arrivano i genitori di pomo e fecero tante feste al figlio e alla sposa e saputo della lite con scorso tanto dissero che la persuadettero a perdonargli ancora ma pranzo nell'allegria generale solo scorso se ne stava pensieroso in disparte e nessuno riusciva a fargli dire quale pensiero lo primesse non ho niente non ho niente diceva però si ritirò prima degli altri dicendo d'aver sonno ma invece d'andare in camera sua entrò nella camera degli sposi e si nascose sotto il letto gli sposi vanno a letto e si addormentano scorso veglia sente rompere i vetri e vede entrare in camera un bicione enorme allora salta fuori snuda la spada e gli taglia la testa la sposa a quel fracasso si sveglia vede scorso davanti al letto con la spada sguainata non vede il bicione che è già sparito e grida all'assassino all'assassino scorso ci vuole ammazzare già due volte l'ha perdonato e questa volta la paghi con la morte scorso viene preso imprigionato e dopo tre giorni lo vestono per l'impiccagione morto per morto domanda la grazia di poter dire tre parole alla sposa di pomo prima di morire la sposa va a trovarlo in prigione si ricorda dice scorso quando ci siamo fermati a un'osteria sì che mi ricordo ebbene mentre lei e il suo sposo dormivano sono entrate tre fate e hanno detto che il mago aveva dato tre maledizioni a sua figlia di trovare tre cavalli e salire sul cavallo bianco e che il cavallo bianco l'avrebbe tradita ma hanno detto se ci fosse stato uno pronto a tagliare la testa e il cavallo non sarebbe successo niente e che chi lo racconterà pietra di marmo diventerà dicendo queste parole al povero scorso erano venuti i piedi e le gambe di marmo la giovane capì basta per carità grido non raccontarmi altro e lui morto per morto voglio che si sappia le tre fate hanno anche detto che la figlia del mago avrebbe trovato tre cagnolini disse la maledizione dei cagnolini e diventò di pietra fino al collo ho capito povero scorso perdonami non raccontare più diceva la sposa ma lui con un fil di voce perché aveva già la gola di marmo e malbettando perché gli diventavano di marmo le macelle le disse della maledizione del bicione ma chi lo racconterà pietra di marmo diventerà etacque di marmo dalla testa ai piedi cosa ho mai fatto se disperava la sposa quest'anima fedele è condannata a meno che certo chi può salvarlo è solo mio padre e presa carta e penna e calamaio scrisse una lettera al suo padre chiedendogli perdono e scondiurandolo di venire a trovarla il mago che non vedeva che per gli occhi della figlia arriva coi cavalli al galoppo papà mio gli dice la figlia abbracciandolo ti domando una grazia guarda questo povero giovane di marmo per salvarmi la vita dalle tue tre maledizioni è diventato di marmo dalla testa ai piedi e il mago sospirando per l'amore che ho per te disse farò anche questo trasse di tasca una boccetta di balsamo diede una spennellata a scorzo e scorzo saltò su di carne ed ossa come prima così invece di accompagnarlo alla forca l'accompagnarono a casa in trionfo con musiche e canti in mezzo a tutto un gran popolo che gridava viva scorzo viva scorzo grazie